Bartoli per Oleari è sterminata l'inferiorità numerica Oleari dai nove metri va a realizzare il primo che devono ancora trovare ovviamente l'equilibrio migliore ancora Marino ancora Vogliovas ancora Vogliovas questa parata dall'altra parte Oleari prova a forzare non trova spazio la palla per Versacov Giovanardi Giovanardi Versacov la cannonata di Versacov e la palla in rete per il 3 a 1 si vedono raramente però ci stanno Bobby Cicce la palla buona per Morettin che va a realizzare e c'è il 3 quindi è rientrato Vogliovas Giovanardi per Bonassi Bonassi per Oleari Oleari per Santilli Bonassi la conclusione è la parata di Randes Rosso dall'altra parte ha spazio e va a realizzare perché la difesa rubierese non abbiamo ben capito su come sia la palla per Marino la conclusione è la parata di Vogliovas ancora un'altra parte Bonassi per Versacov Versacov va dentro e va a realizzare e ci sono anche due minuti passa dal lato opposto terzino sinistro Bonassi per Garau Giovanardi Versacov Versacov va la conclusione ancora la rete di Versacov 7 a 6 per Bianchi Bianchi vada Morettin e per Rosso Rosso prova a sfondare centralmente buona la difesa di Oleari attenzione a Bobby Cicce e c'è la conclusione la rete di Morettin perché abbiamo perso la palla per il pivoto la palla con l'ottima difesa di Versacov che poi lancia in contropiede Santilli e questa volta Santilli non sbaglia Bianchi Morettin per Bobicic ancora Morettin bianchi bianchi rosso rosso centralmente questo era sfondo Bobicic va in gol troppo facile magari prima potevano fischiare lo sfondo Bonassi per Garau Garau va la conclusione va in rete Garau 11 a 10 Rubiera ovviamente Bobicic sarà l'incaricato alla conclusione la palla è per lui gioca con Morettin rosso per Bobicic che va al tiro e va a realizzare Secondo tempo partita giocata sotto ritmo dalle due squadre attacchi che hanno sempre trovato difficoltà contro le difese Versacov la conclusione ancora il Lettone E palla persa d'altra parte Morettin uno contro uno che bravo 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 Morettin Prova a correre Rubiera in contropiede ma il lancio non arriva a Garau Bobicic per Marino la conclusione la rete Morettin attacca centralmente bravo Leari questa volta nel chiudere Rosso Morettin rosso Rosso attacca non viene seguito Troppo facile troppo facile ci battono sull'uno contro uno siamo sempre in difficoltà Pedretti dall'altra parte va a realizzare Rimessa in gioco effettuata ora c'è il passivo Bonassi per Benci Benci per Bonassi Versacov non tira più nessuno Versacov Mamma mia che giolli che ha pescato Sale Santilli che è tornato in campo la palla per Bonassi Versacov Versacov trattenuto sono due minuti ancora Versacov Vediamo la palla per Giovanardi Giovanardi va via uno contro uno e va a realizzare Rosso rosso per Bobicic Bobicic ancora per Rosso Rosso si butta dentro sfondo questo Non viene fischiato Santilli Bonassi Giovanardi Giovanardi per Benci Benci la conclusione la rete Viandrea Benci Argentino ancora Bobicic Bobicic la palla recuperata e va in contropiede Rubiera con Santilli Santilli attaccato va alla conclusione va in gol 23 a 22 di Rubiera Bobicic Bobicic va per Morettin Morettin all'ala per Bianchi e Bianchi realizza un gran gol questo Versacov bisogna tirare bisogna tirare va alla conclusione Murato palla è fuori vediamo un po' la palla per Giovanardi bisogna tirare la conclusione la rete di Giovanardi da una cosa impossibile è andata a pescare un gol clamoroso Bobicic Bobicic all'ala Voglio Vaz